... Corso il cane, ragione, da questa maniera... ...go giù nelle cose... ...go giù nel cane alzate, perché non lo è facile... ...isci la cultura. Una tromba d'aria ha creato il panico nel pomeriggio di ieri a Licata, grosso centro dell'Agrigentino. Da ore piove ha dirotto e le strade principali della città sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Diversi tetti scoperchiati come quello del noto ristorante Logico vicino al porto turistico e diverse abitazioni allagate, molta paura tra gli abitanti. I vigili del fuoco in azione al momento non si registrano feriti. Sui social decine di fotografie e video della tromba d'aria e dei tetti scoperchiati. Chiusa la strada provinciale, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli uomini della protezione civile sono ancora a lavoro nella zona della marina per compiere sopralluoghi e fare una prima stima dei danni. L'attenzione si concentra anche sul fiume Salso che rischia di esondare. Il libero consorzio comunale di Agrigento ha chiuso la provinciale fra Siculiana e Raffadali. Il livello dell'acqua ha infatti raggiunto l'altezza di un piccolo ponte che attraversa la strada. Il libero consorzio comunale di Agrigento ha chiuso la strada. Il libero consorzio comunale di Agrigento ha chiuso la strada. Grazie a tutti.